Mauro Schiappa si chiude l'esperienza a Teramo, se ne avre un'altra, sempre nel mondo del calcio. In questi 12 mesi è passato da essere un appassionato del calcio a essere protagonista vero. Sì, è vero, è vero. Ho avuto un anno molto intenso a livello calcistico. Cominciamo una nuova esperienza con il notaresco. Speriamo che vada tutto bene, ma ci sono i presupposti per fare bene. Per ingrandire ancora quello che è già adesso il settore giovanile. Si porta, tra virgolette, in questa nuova esperienza Luigi Di Battista, con cui ha condiviso gli ultimi 12 mesi in bianco rosso. Sì, porto lui. È veramente lui che mi ha trascinato all'interno. Però lo seguo volentieri, perché comunque è la passione che ci lega. È bello, cioè, la domenica, avere un qualche cosa con cui aspetti... Con ansia. Con ansia, capito, che dopo una settimana di lavoro aspetti con ansia per scaricare un po' le tensioni del lavoro, della vita, comunque, in generale. Non sono mai stati fatti esplicitamente i vostri nomi, però l'altro giorno il presidente del Teramo, Franco Iachini, ha detto speriamo che siano solo contro la mia persona, il fatto di non essere rimasti a Teramo e non contro la città. Ecco, ma Roscheppa come ha vissuto queste parole? Niente, infatti io ho anche risposto... Mi è dispiaciuto, perché comunque non abbiamo niente contro il presidente, che è conosciuto solo il giorno della firma del passaggio delle quote. Mi è dispiaciuto, perché comunque lui non ha mai fatto capire che avesse avuto bisogno del nostro apporto. Abbiamo aspettato, ci sono presentato a diverse occasioni, ma... Niente, quindi... Non avete mai avuto un'offerta vera di rimanere all'interno della Teramo? Assolutamente no, ma sennò saremmo rimasti con tutto il cuore, ecco. Secondo lei come la sta vivendo Campitelli questo momento? Beh, a livello calcistico molto male, anche perché dopo 11 anni di dure battaglie, ecco, si è ritrovato un po'... Però io sono convinto che lui adesso avrà tempo di riposarsi, la famiglia, i figli, i nipoti... Sarà un anno un po' duro, poi si abituerà, dai. E in che cosa è uguale, in che cosa è diverso Salvatore e Giovanni? Salvatore ancora non riesco a conoscerlo bene, diciamo, lo conosco, ma non ho avuto il piacere. Tra un anno ti saprò dire che cosa la differenza reale possa essere.